Cronaca, allarme e bomba, l'asilo, la coccinella, la telefonista anonima era una cuoca indagata dai carabinieri. Crisi in comune, il sindaco Brucchi, il bilancio ha delle scadenze ma il tavolo politico si farà lunedì. Università, il presidente della Corte Costituzionale invita i giovani reagiti alla crisi. Santomero, la protesta dei cittadini contro rifiuti a proda sotto gli uffici della regione. La legge regionale, imprese e funebri a convegno dichiarano guerra alla concorrenza sleale. Sport, basket, domenica la metateramo comincia l'avventura delle fasi nazionali. I biancorossi in Sicilia per sfidare Cefalù. Buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione di Teleponte. Ebbene era stata una cuoca a mettere in allarme un'intera scuola con bambini di piccola età frastornati e spaventati dal trambusto di un'evacuazione del loro asilo. I carabinieri della compagnia di Teramo diretta dal maggiore Rizziero Asci hanno impresso una svolta alla vicenda dei continui allarmi attorno alla scuola dell'infanzia del Nido, la coccinella di Piano Solare. Una donna di 34 anni dipendente della ditta esterna che fornisce i passi all'asilo è stata formalmente indagata per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. Sulla donna accompagnata in caserma questa mattina e che ha subito la perquisizione di alcuni locali nella sua disponibilità pendono gravi indizi in merito alla responsabilità di essere la telefonista che lo scorso 15 aprile annunciò la presenza di una bomba all'interno della struttura, da tempo al centro di numerosi atti di vandalismo e gesti dimostrativi. Al momento i carabinieri hanno contestato alla donna soltanto l'episodio dell'allarme bomba, ma le indagini dei militari dell'arma che stavano lavorando da tempo sul caso, anche con il ricorso a strumenti tecnologici piazzati nelle vicinanze e nelle pertinenze, tende a verificare eventuali collegamenti sugli episodi precedenti, tra i quali la violazione dei locali delle cucine. Un vasto incendio ha interessato la Fometal di Colonnella sul posto e i vigili del fuoco che hanno avuto la meglio sulle fiamme. A prendere fuoco alcuni residui di titano, un incendio dunque sempre sulla bonifica del Tronto ad un mese dal rogo della Italpannelli di Ancarano. Nella mente di molti questa mattina il fumo denso che usciva dallo stabilimento della Fometal di Colonnella, fonderia che lavora leghe in alluminio nella zona di Valle Cupa, ha riportato alla testa quello che era accaduto qualche chilometro più a nord ed un mese fa. Per fortuna in questa occasione l'incendio è stato di proporzioni molto più ridotte ed è stato spento nel corso della mattinata dal massiccio intervento dei vigili del fuoco. E adesso cambiamo argomento, siamo a Teramo e andiamo a vedere qual è la situazione politica di queste ore. Entro domani intanto la Giunta dovrà approvare il bilancio. Ieri alla riunione di maggioranza non hanno partecipato i consiglieri del gruppo Teramo, soprattutto il sindaco Brucchi ha annunciato che il tavolo politico chiesto da Alfonso di Sabatino Martina ci sarà lunedì sera. Purtroppo le questioni amministrative hanno una scadenza, ha detto Brucchi. Quelle politiche le affronteremo immediatamente dopo. Vediamo. Domani ultimo giorno utile per l'approvazione da parte della Giunta del bilancio. Ieri c'è stata una riunione di maggioranza con la defaianza di Teramo soprattutto. Sì, allora innanzitutto domani è il termine ultimo per l'approvazione del bilancio in giunta e noi domani mattina lo approveremo. Devo dire che la situazione a livello nazionale è abbastanza critica perché tanti sono i comuni che non hanno fatto in tempo e che non faranno in tempo ad approvare in giunta il 30 e il bilancio, tant'è che per esempio la regione Friuli Venezia Giulia ha prorogato alla fine di giugno. Il governo non ha voluto dare questa proroga, secondo me è stato un errore. Comunque noi approveremo il bilancio in giunta e poi convocheremo il Consiglio Comunale per maggio. C'è stato un errore di maggioranza dove abbiamo parlato di questo bilancio, l'assenza di Teramo soprattutto, ma insomma io credo che la posizione sia una posizione, può ritenersi anche una posizione comprensibile anche se... Loro chiedevano prima un tavolo politico. Ma guardi, bisogna distinguere due aspetti. Il primo aspetto è l'aspetto amministrativo, il secondo aspetto è l'aspetto politico. L'aspetto amministrativale è delle scadenze e la scadenza del Trento è una scadenza che bisogna rispettare perché se non si rispetta questa scadenza poi non c'è nessun tavolo politico da fare. Quindi se non c'è la scadenza prevista dalla norma poi i tavoli politici servono a poco. Il tavolo politico si farà lunedì sera e quindi lunedì ci sarà il tavolo politico e parleremo di tutto quello che c'è da affrontare con grande serenità ma anche con grande determinazione da parte mia. È chiaro che però questo appuntamento di domani mattina ad approvazione del bilancio è un passaggio importante, ripeto, senza il quale non si va avanti. Il presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi oggi all'Università di Teramo per presentare il suo libro e pur un Alexio Magistralis lancia un messaggio di speranza ai giovani. Nonostante la crisi ha detto tutti ci dobbiamo rimboccare le maniche e vedere quello che c'è di positivo. E' uno dei momenti più delicati della vita economica capitalistica, il momento della distribuzione. Il mio è un messaggio di ottimismo, stiamo recuperando una complessità, stiamo lavorando per una civiltà giuridica nuova. In un mondo attualmente difficile, molto difficile, pensate ai tanti giovani che cercano lavoro e molto spesso non lo trovano, ma anche fertile. Questo è il messaggio di speranza che io vorrei dare ai giovani. Una speranza non facilona, ma una speranza che si basa su quell'etica della responsabilità che deve sempre sorreggerci. Così il presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi intervenuto all'Università di Teramo ieri per presentare il suo libro Ritorno al diritto. Questa mattina invece per un Alexio Magistralis sul tema diritto e fatti economici, Italia, Europa e spazio globale. Io credo, ha continuato Grossi, che ci si debba tutti rimboccare le maniche e vedere nella crisi quello che c'è di positivo. La crisi vuol dire distruzione, però pensiamo che solo se c'è si può costruire qualcosa di nuovo che sia realmente nuovo. Noi non so se siamo a metà del guado, non so a quale punto del guado noi siamo. Noi viviamo ancora il novecento giuridico, che è nella mia diagnosi un secolo lungo, perché è nato alla fine dell'Ottocento e lo viviamo tuttora. Sittine di protesta pescara questa mattina di una delegazione di cittadini di Sant'Omero che si oppongono alla realizzazione di una piattaforma per il trattamento dei rifiuti nella frazione di Poggio Morello. Un centinaio di cittadini provenienti da Sant'Omero, contrarie alla realizzazione di una piattaforma per il trattamento dei rifiuti differenziati nella frazione di Poggio Morello, ha dato vita ad un sit-in questa mattina in via Passo Lanciano a Pescara, in occasione della conferenza dei servizi che vede all'ordine del giorno l'esame del progetto. I cittadini, riuniti nel comitato Punto e a Capo, sono arrivati a Pescara con un pullman e auto private e hanno ricevuto manforte da una delegazione della Coldiretti di Nereto. I manifestanti hanno esposto diversi striscioni, tra i quali uno con la scritta «Fermiamo il mostro Poggio Morello» si ribella e un altro con la frase «Salviamo il fiume Salinello dai rifiuti, no alla piattaforma, in zona alluvionale». «Se questo progetto passerà, arriveranno da tutta Italia 105.000 tonnellate di rifiuti speciali l'anno», dice Mauro Di Addezio, vicepresidente del comitato, in una zona che si trova ad un chilometro da un asilo, in mezzo alle case della frazione, a ridosso del letto del fiume, che ha già subito varie sondazioni e a pochi metri dal nucleo del paese da alberghi e agriturismi. Di Addezio, che oggi gestisce un'azienda di allevamento, ma che in passata ha lavorato a lungo nel settore, denuncia gravi rischi ambientali per la salute. Le polveri pesanti rilasciate dai metalli triturati sono gas più leggeri dell'aria e restano in sospensione. Il vicepresidente del comitato, inoltre, avanza ombre sulla società Magis Energreen SRL, che ha presentato il progetto per realizzare la piattaforma, su un'area ampia 16 mila metri quadrati. Non è stato presentato un business plan e non riusciamo a comprendere quali garanzie possa offrire una società composta da due persone, con un capitale sociale di 20 mila euro, nella gestione di un affare da diversi milioni di euro, punta il dito di Addezio. A sostegno dei cittadini di Poggio Morello, anche la Col di Retti di Nereto, ci schieriamo a difesa di un territorio a vocazione prettamente agricola, spiega il responsabile Pierpaolo Seca. Santomero è città dell'Oglio e in questa zona, ricca di ortaggi e vigneti, operano diverse aziende agricole biologiche. Dunque non è possibile distruggere un'economia con questo autentico mostro. Si sono ritrovati a Teramo i titolari delle imprese di onoranza e funebri per analizzare le novità della legge regionale sul loro settore. Al dibattito ha preso parte Alessandro Bosi, segretario nazionale della federazione delle imprese di onoranza e funebri. La legge regionale dell'Abruzzo, ha detto Bosi, poteva essere scritta meglio. Di sicuro, in merito ai requisiti, non doveva lasciare spazio ad eventuali iscrizioni di imprese improvvisate. Vediamo. All'utero Abruzzi di Teramo, nell'auditorium, si è tenuto un convegno che ha indagato le novità introdotte dalla legge regionale del 2012 per le imprese funebri abruzzesi. Cosa è cambiato, Avvocato? Allora, è cambiato che dal primo di gennaio in pratica è entrata in vigore la legge numero 41 del 2012 che ha sicuramente dato un inquadramento diverso a quella che era l'attività delle imprese funebri in Abruzzo. Per cui ha rivisto un po' tutto il settore e abbiamo ritenuto necessario insomma organizzare questo incontro per spiegare meglio quali sono le problematiche che in fondo queste imprese si trovano ad affrontare tutti i giorni. Tra le novità che ci sono nella legge 41 della regione Abruzzo c'è quella che le salme che muoiono in ospedale possono eventualmente, su richiesta dei familiari, portate nella propria abitazione una sala del conmiato in una casa funeraria dove svolgere il periodo dell'osservazione è il periodo ovviamente strettamente necessario per le onoranze. In Regione Abruzzo innanzitutto va fatta una premessa che è stata una delle ultime regioni a intervenire con l'adozione di un proprio regolamento regionale in materia funebre e cimiteriale. A nostro parere poteva essere scritta probabilmente un po' meglio per evitare quelle pericolose interpretazioni che portano poi a delle derive soprattutto da parte dei comuni all'atto della valutazione dei requisiti di chi lavora in questo settore. Purtroppo questi requisiti sono stati scritti in una maniera non dico blanda ma interpretabile. Possono esserci degli infiltrati tra le imprese funebre, è questo che temete? Sicuramente in questo settore dalla liberalizzazione a oggi si sono approcciate ulteriori 3.000 imprese rispetto alle 3.000 iniziali. Considerando che però il numero dei decessi rimane pressoché fisso voi capite che qualche piccolo problema lo si trova. Sono poi quei problemi purtroppo portati avanti dalla parte, noi speriamo, minoritaria del settore ma che purtroppo portano questo nostro settore agli occhi dell'opinione pubblica attraverso i giornali, attraverso i soliti scandali, racket del carestinto e quant'altro. Per combattere questo sicuramente serve un intervento normativo un po' più coraggioso rispetto a quello che è stato fatto fino a oggi. Restiamo in qualche modo in tema. Con la buona stagione cambiano gli orari di apertura del cimitero Terramano di Cartecchio. Per le operazioni di sepoltura e tumulazione saranno accolti i cortei funebri che arriveranno entro le 17, adesso solo fino alle 15.30. In estate questo limite sarà spostato alle 19. Intanto tra qualche settimana sarà giudicata la gara per la realizzazione della camera mortuaria all'interno del cimitero e presto sarà bandita quella per la realizzazione dell'impianto di cremazione che potrebbe essere il primo a nascere in Abruzzo. Il servizio. Direttore Stip è presente anche lui a questo convegno sulle imprese funebri. Parliamo degli orari del cimitero, del cimitero di Cartecchio e dei cimiteri Terramani. Perché ci sono state polemiche? Soprattutto quest'inverno quando il funerale o comunque la Salma, la Bara doveva arrivare al cimitero entro le 15.30 e questo ha creato non pochi problemi. Questo ha creato qualche problema sicuramente alle onoranze funebri, ma era dovuto dal fatto che a una certa ora fa buio e il cimitero non è dotato di un'illuminazione e quindi per problemi di sicurezza, come il buon senso impone, avevamo dovuto mettere un limite all'accesso dei cortei funebri. È evidente che con l'allungarsi delle giornate già oggi questo limite è stato spostato in avanti, quindi quello che era prima le tre e mezza, adesso le cinque. Ricordo e approfitto che dal primo maggio l'orario di apertura dei cimiteri si prolungherà fino alle 19, quindi sempre col buon senso anche questo orario di accesso verrà gestito nella massima serenità. Ingegnere, altri servizi che potrebbero nascere al cimitero? Intanto si parla sempre di questa casa del commiato, ce l'avrà Terramo? Sì, noi stiamo ultimando la procedura di gara per questa camera mortuaria che agevolerà il lavoro sia degli operatori della società ma anche delle agenzie di onnanze funebri e poi siamo sempre in procinto di bandire la gara per l'impianto di cremazione che se tutto va bene sarà il primo impianto in Abruzzo e consentirà un'ulteriore forma di sepoltura che è appunto quella della cremazione che è molto richiesta ultimamente. Allora diamo dei tempi. La camera mortuaria, la fase di gara è nella direttura finale, ci sono già state il ricevimento delle offerte, adesso c'è la verifica dei requisiti, so che sono state fatte delle lettere integrative di richieste, quindi si parla di settimane per la giudicazione. Per quanto riguarda l'impianto di cremazione invece aspettiamo le autorizzazioni, la conclusione dell'iter autorizzatorio da parte degli enti preposti per poi bandire la gara. Nei giorni scorsi il personale forestale del comando della stazione di Atri nell'ambito di controlli anti-bracconaggio scaturiti anche in seguito a specifiche segnalazioni ha scoperto e interrotto un'attività di bracconaggio effettuata all'interno della riserva naturale regionale dei calanchi di Atri. Nel corso delle indagini sono stati rinvenuti numerosi lacci di cattura idonei a cagionare l'animale che dovesse rimanerne intrappolato, lesioni gravissime rendendone oggettivamente impossibile la liberazione e tali da provocarne la morte. Grazie all'intervento tempestivo degli agenti è stato possibile rimuovere questi strumenti di cattura e attraverso più approfondite indagini identificare il responsabile del gesto deferito all'autorità giudiziaria. L'attività investigativa è ancora in corso per l'individuazione di altri soggetti coinvolti. La storia delle auto al centro di una serie di incontri che l'associazione Old Motors d'Abruzzo ha organizzato con le scolaresche. Il primo incontro si è svolto a Teramo nella sala polifunzionale della provincia. Hanno partecipato oltre 200 studenti. Vediamo. Old Motors incontra le scuole in un tour abruzzese e si inizia dalla sala polifunzionale della provincia di Teramo. Si inizia da Teramo. Poi l'idea del nostro club è di coinvolgere Chieti, Pescara e anche l'Aquila con un po' di fortuna e cerchiamo di raccontare a questi fanciulli di tutta l'età perché oggi cominciamo dalle scuole medie ma proveremo a farlo anche con le scuole elementari e con i più grandi celli. Proviamo a raccontare la storia dell'automobile dalla ruota ad oggi quella che probabilmente è stata la più grande invenzione della storia, come è arrivato ai giorni d'oggi e dove forse ci potrà portare. Non è la prima volta che la vostra associazione si avvicina al mondo della scuola? No, non è la prima volta. Questa è un'idea che è immaturata in noi già da qualche anno. Il tentativo di farlo attraverso la Mille Miglia Teramana per le due edizioni che abbiamo avuto la fortuna di ospitare. Ovviamente anche senza Mille Miglia cerchiamo di andare avanti. Ci piace l'idea di poter raccontare qualcosa che non è solo passato ma anzi è la realtà per come loro la possono vivere, per quello che c'è dietro, tutto quello che è stata l'innovazione tecnologica e il cammino dell'uomo per arrivare a quello che oggi loro vedono in televisione, sulle Xbox, sulle Playstation. Quali sono le finalità dell'associazione Old Motors? Old Motors è il club di riferimento abruzzese, è il club più antico, tra i più antichi in Italia. Le nostre finalità sono quelle di mandare avanti la nostra passione, che è la passione dei motori, la passione delle autostoriche. In questo caso, l'idea nasce da tanto tempo, nasce da me ed è proprio la voglia di tramandare ai ragazzi questa passione perché l'età media purtroppo è molto alta, devo dire, intorno a questo nostro mondo. Io sono tra i più giovani Presidenti d'Italia a 41 anni. Da 20 anni sto all'Old Motors nel Consiglio Direttivo, ero un giovane ventenne da allora e continuo a essere tra i più giovani. Quindi è da loro che deve partire la voglia, la passione, anche perché saranno il futuro di questa associazione. Sabato 7 maggio sarà una giornata dedicata alla bicicletta e alla cultura a Teramo con l'iniziativa Green Days, pedalata con visita guidata nei siti archeologici e lezioni di educazione stradale. Vediamo. Green Days, energie in circolo. Una giornata, quella del 7 maggio, tutta dedicata alla bicicletta, alla cultura e ai ragazzi. Sì, è una delle tante giornate che abbiamo previsto nel Green Days, quindi cercare di sensibilizzare soprattutto tra i più giovani, quindi per questo il coinvolgimento con le scuole, la mobilità sostenibile, quindi tutti i temi che riguardano l'ambiente e la sostenibilità in genere. Su questo abbiamo abbinato anche la cultura e cerchiamo di andare a recuperare delle zone importanti della città che hanno rimasto un po' nel dimenticatoio. Quindi prendiamo subito spunto dalle parole di ieri in una conferenza stampa dell'amministratore Ranalli della Terramambiente in cui a seguito di un concorso che noi non abbiamo vinto ha deciso comunque di sponsorizzare come Terramambiente il premio previsto che è un parco giochi in materiale riciclato. Ne approfitto subito e noi questo parco giochi annuncio che lo andremo a mettere nell'area del parco archeologico della Kona che da tempo purtroppo per svariati motivi avevamo dovuto purtroppo trascurare e con questa occasione, con l'occasione del 30 aprile, con l'occasione della manifestazione che facciamo intendiamo riaprirlo alla cittadinanza e tenerlo costante nel tempo, quindi andando a mettere lì a installare un parco giochi. All'iniziativa hanno aderito tre istituti comprensivi di Terramo, Zipilino e Luci di Savini, San Giuseppe e San Giorgio ed Alessandro Risorgimento. Il programma prevede il ritrovo degli studenti alle 9 muniti di bici e caschi al ponte a catena e poi un tour culturale. Sì, chiaramente nell'ottica di un discorso di valorizzazione di quello che è il nostro polmone verde di Terramo, quindi il parco fluviale, andiamo anche a toccare un sito importante per la nostra città che è il sito archeologico della Kona. Avevo già annunciato nei mesi scorsi che era in cantiere un progetto di riqualificazione dell'area, ci abbiamo lavorato in sinergia con gli uffici, quindi con il nostro ufficio del polo museale e con l'ufficio tecnico e siamo riusciti a rendere fruibile quel parco archeologico non soltanto per la data del 7 maggio dove i bambini avranno la possibilità di fare una visita guidata con degli esperti del settore ma anche di riqualificare quell'intera area e di renderla fruibile soprattutto nei periodi successivi. Quindi è un intervento che parte in occasione di questa giornata che serve a sensibilizzare i ragazzi sia nell'uso della bicicletta che sulla cultura, quindi in particolare su quel sito ma anche su tutto l'anello fluviale, ma l'obiettivo dell'amministrazione è quello di poi rendere quell'area appetibile. Un'occasione per riflettere sugli errori giudiziari. Sabato 30 aprile alle 18 nella sede dell'Associazione Teramo Nostra in via Fedele Romani verrà proiettato il film Enzo Tortora, una ferita italiana di Ambrogio Crespi. Sentiamo. Sabato prossimo alle 18 a Teramo Amnistia Giustizia, Libertà Abruzzi e Teramo Nostra presentano il docufilm di Ambrogio Crespi, Enzo Tortora, una ferita italiana. Qual è la motivazione che vi ha spinto a ricordare questo personaggio? Intanto è stato un personaggio straordinario, un signor presentatore che non aggrediva chi doveva intervistare o chi è concorrente, è stato veramente un signore. Dopo è stato messo nel tritacarne mediatico e lui dopo ha dimostrato la sua innocenza, però già si era ammalato perché non tutti reagiscono allo stesso modo quando vengono coinvolti in queste situazioni terribili. E noi, grazie anche a Marco Pannell che è stato il primo che gli ha dato solidarietà, quindi il nostro concittadino è stato sempre all'avanguardia per il rispetto, per i diritti civili. E noi come associazione culturale portiamo avanti queste motivazioni importanti perché l'associazione culturale è vera che fa cultura, ma fa cultura sociale. La cultura sociale vuol dire andare anche nel merito delle problematiche. Un modo anche per puntare l'attenzione sugli errori giudiziari? Sì, se ne parla tanto, però io non sono né un avvocato né un esperto di diritto, però come semplice cittadino questi errori non si dovrebbero assolutamente verificare, perché lui è praticamente morto di crepa a cuore, Enzo Torter, quindi prima di giudicare uno dovrebbe veramente verificare i fatti. Previsioni per oggi in Abruzzo. Al pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sui settori appeninici, poco nuvoloso sui settori costieri, nevicate al di sopra dei 2050 metri, inserate nella notte variabile con deboli rovesci di pioggia sui settori interni e sui rilievi, parzialmente nuvoloso sui settori marittimi. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 15 e 18 gravi nelle conche aquilane e marsicane, tra 18 e 21 gradi sulle pianure adriatiche, venti deboli o moderati settentrionali, mari quasi calmi. In provincia di Terramo al pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sui settori appeninici, parzialmente nuvoloso sui settori costieri, nevicate al di sopra dei 2050 metri, inserate nella notte variabile con deboli rovesci di pioggia lungo l'orsale, poco nuvoloso sulle aree adriatiche, temperature insensibile diminuzione, massime comprese tra 15 e 18 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 16 e 19 gradi sulle coste, venti deboli o moderati settentrionali, mari e quasi calmi o poco mossi. Domenica il Terramo disputerà la sua ultima gara casalinga della stagione, al Bonolis arriverà la SPAL, squadra vincitrice del girone B e i diavoli scenderanno in campo con la voglia di mantenere l'imbattibilità tra le muramiche, mettendo anche al sicuro l'accesso alla prossima Team Cup. Non farà parte della gara il capitano Ivan Speranza, che lunedì effettuerà una risonanza magnetica per accertare le sue condizioni e stabilire i tempi di recupero. Con ogni probabilità però la stagione della colonna difensiva bianco-rossa si chiuderà qui. Domenica la McEnergy Roseto, parliamo di basket, affronterà la prima giornata dei play-off di A2 contro Ferentino. La società Ciocciara ha messo a disposizione dei tifosi ospiti ben 300 biglietti, 100 in più del previsto, che saranno acquistabili presso i botteghini del settore ospiti. In Serie B domenica alle 18, Campri e Pescara si sfideranno nel derby più importante della stagione, quello dei play-off. I farnesi partiranno avvantaggiati perché, in caso dovesse decidersi tutto in gara 3, avranno dalla loro parte il fattore campo. I pescaressi però affronteranno questo turno sulle ali dell'entusiasmo, visto che arrivano da 14 vittorie consecutive in campionato. In Serie C Silver domenica inizieranno le fasi nazionali per la metateramo. I bianco-rossi di coach di Salvatore, dopo aver battuto nelle finali play-off l'Aerino Termoli, sono stati inseriti nel girone nazionale con Pozzuoli, Cerignola e Cefalù. Proprio in Sicilia, contro Cefalù, la squadra terramana affronterà la prima sfida di questa pool promozione. La compagine del presidente Ruscitti domani si metterà in viaggio e, oltre al lungo tragitto, avranno da affrontare una gara difficile, visto che i siciliani hanno un roster costruito per la vittoria finale e possono contare su due americani come il playmaker Cooper e il 4 Sims. E adesso ci occupiamo della maratonina pretuziana. Intanto ricordiamo che a causa delle avverse condizioni in meteo, previste proprio per domenica 1 maggio, l'evento dedicato ai bambini nell'ambito della manifestazione è rinviato al 22 maggio 2016, mentre restano invariati tutti gli altri appuntamenti in programma, tra cui la maratona, quella agonistica, tantissimi sono infatti partecipanti, previsti per la storica manifestazione sportiva terramana. E a tal proposito ascoltiamo il presidente del gruppo podistico Amatori Teramo, Giacomo Di Felice, il presidente dell'Atletica Gran Sasso, Maurizio Salvi, il servizio. Nonostante le condizioni in meteo diano cattive notizie per il 1 maggio, i veri atleti non si scoraggeranno di certo. Qual è il programma dell'evento? Il programma comincia la mattina con le palestre, con la gente di Teramo, gente che corre una volta all'anno pur di fare la maratonina pretuziana. Per quanto riguarda la corsa agonistica del pomeriggio, come diceva lei, il meteo non influisce perché il vero agonista corre con tutte le condizioni atmosferiche. Noi quest'anno non abbiamo invitato nessuno, anche perché in Italia, nel mondo, non ci sono nomi di spicco a livello podistico, è un periodo che non abbiamo invitato nessuno. Però la qualità arriverà sicuramente perché oramai la maratonina piace a tutti, piace a chi corre meno veloce, a chi è un campione. Quindi la qualità non mancherà sicuramente. Alle ore 17 comincerà la gara per un percorso di noi, chilometri e sei nel centro storico. L'unico punto fuori dal centro storico sono i tigli, ma poi rientriamo subito nel centro storico. Come ripeto, la qualità non mancherà, la partecipazione non mancherà perché i numeri ci saranno sicuramente e noi siamo pronti a organizzare e stare lì a disposizione degli atleti. Non è primo maggio a Terramo senza la manifestazione dedicata alla maratona più attesa sicuramente dell'anno? Sì, ormai siamo giunti alla 37esima edizione, la maratonina pretuziana è una delle manifestazioni podistiche regionali più vetuste, 37 anni sono tante e come dicevamo prima in conferenza stampa è una manifestazione che cresce ogni anno. Ogni anno ci sono sempre più partecipanti, ci sono sempre più giovani. Il pubblico che c'è nella maratonina pretuziana difficilmente si ha in altre manifestazioni. Quindi questa è anche una particolarità che ci contraddistingue perché veramente è diventato un appuntamento per i terramani, quindi tanti, dai giovani a meno giovani, curiosi, vengono apposta a Teramo, anche i terramani vengono perché a loro piace vedere questo grande spettacolo e noi siamo contenti di poter offrire ancora uno spettacolo di questo livello. È tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale, grazie per l'attenzione, l'informazione ritorna alle 19.15, buon pomeriggio. Grazie.